Ciao, il mio nome è Davide e lavoro a Nairobi per la riscoltura. In questo momento senza di te non possiamo farcela. Le famiglie che vivono nelle baraccopoli sono stremate dalla crisi alimentare che ha messo in ginocchio le persone che risiedono in USINAMAS. Stiamo facendo il massimo per rispondere all'emergenza, ma era impossibile prevedere questo lunghissimo lockdown e le conseguenze devastanti di reversa. Abbiamo bisogno del tuo aiuto, adesso più che mai.